L'unico dato che al momento è previsto è che verrà assegnato al proprio device, al proprio telefono, un ID che però ovviamente non identifica la persona. Non è vero che sono anonimi. Io discuto e pongo un grosso interrogativo sull'anonimizzazione. Quando diamo dati per un certo proposito non abbiamo necessariamente la consapevolezza che quei dati verranno condivisi con terze parti. Tutto quello che sta avvenendo avviene anche in un sostanziale quadro di soppressione della trasparenza. Abbiamo accettato anche delle misure che invece con la salute pubblica non c'entrano niente. Quanta fiducia i cittadini italiani hanno nelle istituzioni? L'algoritmo di analisi dei dati quanto incide sulla vita e le scelte poi della società? Quei poteri, come li usiamo e come possono influenzare la nostra vita e tanti altri dei nostri diritti? Questa è una questione da avere molto ben presente. No, al coinvolgimento, comunque attenzione, al coinvolgimento di aziende che sviluppano tecnologie di sorveglianza. Le aziende che si stanno muovendo di più per promuovere queste soluzioni sono delle aziende che vengono dall'industria della sorveglianza. Palantir, che è una di queste aziende con una sorta di Covid-washing. Fino a quanto queste misure dureranno? Non si fermerà lì. Andremo oltre e andremo verso le imprese che per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori in ufficio o in azienda adotteranno anche misure in autonomia. Quanto appunto sono legate all'emergenza? Allora forse, oltre a quali dati si possono raccogliere, le autorità dovrebbero anche approfittarne, tra virgolette, per capire quali informazioni possono dare. Soprattutto per quanto riguarda tutti i dati, le informazioni dell'emergenza, perché non possono essere resi pubblici? Potrebbe addirittura diventare un'occasione di alfabetizzazione di massa sull'utilizzo dei dati personali sugli smartphone e in rete.